Com'è nata e perché questa passione per le bici? Allora, quando ero un po' più bambino noi quando sapevamo fare una riparazione non si andava dai bici d'età. Prima si rompeva ancora le bici d'età. O magari se ci riuscite a raccomodare si andava dai bici d'età. Questo è un motivo. Il secondo è che io davanti a casa mia c'era un distributore di benzina dove venivano lavare anche le macchine. Io andavo lì a passare la giornata però avevo sempre il raffreddore perché ero sempre mollo. Allora i miei genitori smisero rimandarmi lì, però io comunque volevo un passatempo perché mi piaceva sempre traffiare. E allora la mia mamma passò da questo bicidettaio in piazza a chiedere se aveva bisogno di più del tipo di uno a fare qualcosa. Lui mi disse di sì e è partita così la cosa. E da allora non l'hai mai più lasciata? No, no, no. Una parentesi lavorativa ed un altro mestiere, però in realtà il contatto è un modo io ti li con giù sempre a voi. E allora non l'hai mai più lasciata?